Ben ritrovati i gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca, andiamo nella destra a tagliamento a Pordenone, è qui che è stato sorpreso un giovane, sarebbe lo spacciatore a tanti ragazzi della destra a tagliamento, si tratta di un minorenne, è stato sorpreso dai carabinieri a vendere droga, ben 400 le cessioni che sono state documentate dagli investigatori dell'arma, il giovane è finito nei guai. Sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. Un ragazzo di 17 anni di Sacile è stato denunciato dai carabinieri della compagnia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata. Sono state documentate oltre 400 cessioni ad attitudini scolastici di Sacile e Pordenone che avvenivano nei pressi delle scuole o delle fermate degli autobus e della stazione ferroviaria che il baby spacciatore raggiungeva utilizzando a propria volta i mezzi pubblici. Le indagini sono cominciate a ottobre quando i militari dell'arma avevano controllato il ragazzo nei pressi della stazione ferroviaria di Sacile. Durante la perquisizione erano stati rinvenuti 9 grammi di marijuana, già confezionati e frazionati per la successiva cessione con indicazione del relativo prezzo di vendita. Nella sua abitazione aveva disposto inoltre altri 40 grammi di marijuana, materiali idoni al confezionamento e un bilancino di precisione. L'attività di spaccio si è protratta per oltre un anno e gli aveva anche consentito di concretizzare guadagni importanti. Acquirenti e consumatori di sostanze stupefacenti, la maggioranza minorenni, sono stati segnalati ora alle rispettive prefetture di residenza. Rimaniamo nella destra a tagliamento per parlare di due preziosi violini rubati di fatto spariti ancora 17 anni fa. Ritrovati poi su subito.it, ora un sessantenne di Pordenone insieme a un altro veneziano sono finiti nei guai. Sentite il servizio. Due costosi violini rubati dopo 17 anni tornano nelle mani del proprietario, il famoso lituaio padovano Roberto Lanaro, che ne viene in possesso solo perché un maestro di musica milanese 61enne, raggirato sul web da due ricettatori, li porta nello suo studio per farli valutare. Sembra la trama di un film. I due strumenti sono stati sequestrati dai carabinieri che hanno anche denunciato per ricettazione e truffa ML, un sessantenne di Pordenone, e PB, trentenne di Cavarzere, ovvero i due che hanno venduto online su subito.it all'ignaro e poco avveduto, insegnante di musica milanese, i due violini del valore rispettivamente di 30 e 15 mila euro. Continuano poi le indagini per scoprire l'identità del primo ladro. A raccontare come sono andate le cose, il proprietario Roberto Lanaro della sua bottega di Mastro Liutaio di Via Belzoni, dove da più di 40 anni lavora sulle orme del padre Luigi, noto maestro degli strumenti ad arco e a corda. I due strumenti di cui stiamo parlando sono un violino realizzato da me nel 1999, un pezzo unico presentato a un concorso internazionale di Parigi, cui tenevo in particolare modo del valore di circa 15 mila euro, e un altro strumento realizzato da un autore di pregio nel 1934, che era stato recuperato da mio padre, del valore di circa 30 mila euro. Le avevo prestate a un musicista nel 2002, facendogli firmare tutti i documenti necessari. Partito per una tournée all'estero, non mi ha mai pagato i due strumenti e ha fatto perdere le sue tracce. L'ho denunciato alla polizia, ma non ne ho più saputo niente. A dicembre dello scorso anno, poi, la strabiliante sorpresa. Mi ha contattato questo insegnante di musica, Meneghino, raccontandomi di aver acquistato i due violini per 12.500 euro in contanti da un uomo di Pordenone, che diceva di averli ricevuti in eredità dal nonno che li aveva acquistati da mio padre. Voleva che glieli certificassi. Ma ho capito subito che si trattava dei miei due strumenti rubati ormai 17 anni fa. Così gli ho fissato un appuntamento e ho avvisato della cosa ai carabinieri di Cadoneghe, il cui comandante in borghese ha assistito poi all'incontro. In realtà il malcapitato maestro di musica milanese è a suo volto una vittima di questa bizzarra vicenda. Si è fidato del pordenonese e del veneziano, che gli hanno venduto i due strumenti pagati in contanti per 12.500 euro, anche se forse proprio questo pezzo doveva insospettirlo, visto che entrambi i violini hanno un valore decisamente superiore. La cosa che mi ha colpito è che fossero in condizioni perfette, spiega il liutaio, così come lo erano le custodie e gli archetti. Il maestro si è fidato di due venditori, non sospettando la dubbia provenienza. A lui hanno raccontato che gli strumenti erano stati ereditati dal nonno. Presto l'anaro tornerà in possesso di due archi. Non so se li terrò con me, l'usicista milanese mi ha chiesto di poterli acquistare regolarmente. Evidentemente ci ha proprio lasciato il cuore. Ricorderete l'omicidio Calligaris, indagato per l'omicidio della donna con cui conviveva. Ora c'è una nuova fase del processo. Calligaris ha chiesto i fatti, il rito abbreviato. Si è aperta a Udine l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola l'11 novembre 2008 sull'uscio di Villa Calligaris a Manzano, dove abitava con l'allora compagno Paolo Calligaris, chiamato ora a difendersi dall'accusa di omicidio. In aula c'erano i familiari di Tatiana, la mamma Mary Conchione, i fratelli Marco e Marzia, che sono costituiti parte civile. Con loro c'era l'avvocato Lauro Luzzato Guerrini, chi li ha assistiti nel corso di questi dieci lunghi anni dopo il delitto. È certamente difficile per loro, ha spiegato l'avvocato Luzzato Guerrini, sottolineando il dolore di familiari per la perdita di Tatiana che non si attenua. Non c'era invece Paolo Calligaris, che ha sempre respinto con forza l'accusa. Per lui c'erano i suoi legali, gli avvocati Rino Battocletti e Cristina Salonna, che hanno depositato una serie di ati di indagini difensive svolte in questi mesi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura. Si tratta di alcune sommarie informazioni, testimoniali raccolte dai difensori, nonché di una serie di consulenze realizzate sempre per conto della difesa. Una consulenza medico-legale, un'analisi della prova dello stub, cui fu sottoposto all'epoca Calligaris per la ricerca di particelle da polvere da sparo, che diede esito negativo, una consulenza su alcune immagini, in particolare su delle macchie di sangue rivenute sulla ruota dell'auto dell'uomo a dimostrazione, secondo la difesa, del suo arrivo sulla scena dopo la commissione del delitto. Una consulenza psicologica e una sui tempi di percorrenza del percorso fatto quel giorno. Il Gup Andredi ha aggiornato l'udienza al 18 marzo, su richiesta del Pubblico Ministero Marco Panzeri, per consentire quindi alla Procura e alle parti civili di leggere ed esaminare la documentazione prodotta dalla difesa. Materiale che per ora la Procura intende studiare per vedere se dobbiamo modificare qualcosa o svolgere ulteriori accertamenti, ha spiegato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. In udienza non sono state ancora formalizzate istanze e diritti alternativi, ma la difesa preannuncia un possibile abbreviato. Andremo verso l'abbreviato, afferma l'Avvocato Battocletti, convinti che il materiale di indagine, sia quello della Procura sia il nostro, sia assolutamente idoneo a portare a una soluzione con formula piena in tempi brevi. Eravamo già convinti che non ci fossero nemmeno gli estremi per una richiesta di rinvio a giudizio e riteniamo anche che ci siano ancora più materiale favorevole al nostro assistito rispetto a quanto la sua posizione venne archiviata. Ancora cronaca, andiamo ancora alla destra a tagliamento. A Spilimbergo è qui che una donna originaria di Spilimbergo, di fatto residente a Carle, una stalker, così l'ha definita l'accusa, ha 77 anni. Ora la donna ha deciso di patteggiare quanto avrebbe commesso con i propri familiari. Sentite. Aggressioni verbali, minacce continue, insulti. Le vacanze al mare erano diventate un tormento per una famiglia originale di Carle che si è ritrovata a fare i conti con una parente molesta. Fioretta Nelli Cecconi, classe 1942, originale di Spilimbergo, ma residente in Francia. In Italia è domiciliata a Carle, dove trascorre le vacanze in lungomare Trieste. Stalking, lesioni, violazione di domicilio, minacce, violenza privata e violenza nei confronti di pubblico ufficiale. Sono reati per i quali ha patteggiato sei mesi, pena sospesa, nell'udienza preliminare del GUP Monica Biasutti. L'accordo è stato raggiunto tra il PM Andrea Del Missiere e l'avvocato Laura Ferretti nella sentenza che la fine del processo in udienza preliminare contribuisca a allenire gli attriti familiari. Da otto anni la donna ingiuriava ripetutamente una coppia di conugi, lui iperteso, provocando loro stati d'ansia e paura. Vi ammazzo, vi distruggo casa, era la frase ricorrente. Inutile l'ammonimento firmato il 14 aprile 2017 del questore di Venezia. La donna ha continuato a insultare le vittime. In un'occasione, entrata nel loro appartamento, spintonandoli e sedendosi sul divano, cominciò a insultarli con parolacce. Dicevano che erano contadini, con la casa al mare, ignoranti. Quel giorno era il 29 luglio del 2018. La coppia fu costretta a chiamare l'intervento dei carabinieri. La Cecconi, pur nulla intimorita dalle divise dell'arma, cominciò a dimenarsi per non essere accompagnati in caserma. Strappò a metà un documento che il vicebrigadiere stava esaminando e minacciò di denunciare i militari. Fece anche cadere a terra con uno spintone nella padrona di casa, dopo essersi introdotta nella sua proprietà scavalcando una siepe. Presi per i capelli un'altra parente e mentre si trovavano tutti nella sezione dei carabinieri, la minacciò. Attenta a te, vedrai cosa ti capita. L'ultimo episodio risale al 3 novembre dello scorso anno, quando minacciò di bruciare l'appartamento che si trova sotto il proprio alloggio. E ora andiamo a Trieste. Semperiamo delle case di riposo. L'assessore alla sanità della regione Riccardi ha detto che è un sistema che oggettivamente ha delle difficoltà. Ma sentiamo le sue stesse parole. Vice governatore Riccardi, qual è la direzione della giunta regionale dopo l'incontro con i sindacati in merito alla questione delle case di riposo, ovvero la parte strutturale e anche quella della formazione del personale in vista delle prossime scadenze? Beh, con i sindacati abbiamo fatto una ricognizione complessiva di un sistema che ha oggettivamente delle difficoltà. Ci sono delle scadenze in applicazione ai nuovi adeguamenti delle strutture e conseguentemente anche all'attività della qualificazione del personale che lavora dentro le case di riposo. Quindi diciamo che mi pare che esca una posizione abbastanza condivisa nel cercare di allineare queste scadenze accelerando prima di tutto il completamento dell'adeguamento strutturale e anche l'attività di formazione di nuovo personale, in particolare delle OS che lavorano dentro le case di riposo. Oltre a questo naturalmente poi c'è tutto il ragionamento della pianificazione complessiva, sul quale io intendo naturalmente coinvolgere il sindacato, però nella pianificazione dell'integrazione sociosanitaria, quindi con un orizzonto un po' più lungo rispetto agli obiettivi che abbiamo nella riforma che seguirà quello che è stato il lavoro già raggiunto della revisione del numero con la riduzione delle aziende sanitarie. Si vuole puntare anche di più sulla persona? Oggi il sistema ha un grande limite. La persona non guida il processo di assistenza e soprattutto non guida la sua collocazione dentro le aziende dei servizi alla persona. Cioè noi abbiamo delle persone che indipendentemente dalla propria condizione di salute hanno le risposte di assistenza in funzione delle dimissioni edilizie delle strutture. è una cosa che non sta in cielo e in terra, per cui secondo me questa è una di quelle cose da modificare e mi pare di aver incontrato anche la condivisione da parte delle organizzazioni sindacali. Questi servizi e i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete. A risentirci, quindi alla prossima!